Benvenuti a questa presentazione di cui parleranno Annalisa, mia figlia, la rivendico a questo punto, antropologa, Gian Paolo Graziano, nostro amico, professore, giornalista, cos'altro posso aggiungere, basta, è l'autore Ciro Tarantino, che anche lui possiamo rivendicare come è cresciuto in questa libreria, è cresciuto, lo vedo anche dalla bibliografia, perché ormai ho cominciato a prendere questa abitudine, i libri me li guardo dalla fine, e dalla bibliografia ho seguito un po' tutto il percorso, dico Ciro, ma anche dei civici, perché a questo punto Ciro Pizzo e Ciro Tarantino spesso lavorano assieme, si vede, sono amici e tutto il resto, e la traccia del percorso, dell'approfondimento, dello studio, degli studi, eccetera, è combinata, e dai titoli dei libri risalgo con tranquillità molte volte ha agli interessi particolari o ai ragionamenti. Si è più volte parlato della città di Napoli, se ne continuo a parlare, l'area metropolitana napoletana, Ciro lo dice, la cenna, è un laboratorio, penso che realmente sia così come pensano molti, perché nel laboratorio delle aree metropolitane che si sviluppano sia le contraddizioni sia le sperimentazioni, sperimentazioni politiche, istituzionali e anche di ricerca, perché poi è lì che si ammassa tutto il sapere, lo scibile, la critica e l'anticritica, cioè quelli che fanno l'antimafia e tutto il resto. A volo d'uccello qua si parla di molte cose aperte, in effetti come molti altri, e questa è una cosa che mi sento di dire, Ciro non chiude il libro, lui apre, apre ragionamenti in parte già fatti o vissuti, la questione dei rifiuti l'abbiamo vissuta, ma non è che l'abbiamo vissuta, adesso li hanno nascosti, ma il problema ce l'abbiamo tra un po' di nuovo, come ce l'hanno a Roma con Malagrotta, perché hai voglia di fare tutto il riciclaggio che vuoi tu, la questione sta probabilmente nella filosofia di questa società che intende la merce e quindi la distruzione continua della merce, ma anche qui non approfondisco più di tanto. Le citazioni diverse e la palpabilità anche della ricerca, perché poi ti accorgi che non è solo la citazione del libro, è anche ricerca militante, cioè ricerca legata a quello che è stato l'approfondimento del libro, eccetera. E io ho particolarmente piacere a questo tipo di libri di ricerca, perché ci sono delle passioni, a volte anche inconfessate, che mi portano a pensare che certi libri valgano bene. La popolazione non è solo un saggio e affronta diverse questioni di Napoli con criticità e ironia, l'aspetto che ho più apprezzato di questo libro, perché si riusciva a sorridere anche leggendo di cose disastrose che ci riguardano, senza cadere mai nel banale. Mi ha un po' ricordato i saggi scritti da Corbidal, Menzogne dell'impero e altre distruttività, anche se il libro di Ciro è scritto meglio, si può dire questo. Ciro dedica diversi casi alla Napoli e alle bugie degli ultimi salvatori delle questioni meridionali. È un libro però che, come diceva che si fa leggere e simula delle riflessioni, partendo dal linguaggio. Dal giornale e telegiornali ci pongono di fronte a questioni a cui danno nomi diversi, da quello che anche le immagini dimostrano. Guy Debord già affermava 40 anni fa che questa è la società dello spettacolo, dove tutto viene spettacolarizzato, il vero converge nel falso e il simulato sostituisce reale. Nel mondo realmente rovesciato il vero diventa parte del falso. Napoli è una città complessa e credoscopica e le coine che la caratterizzano rendono complicato stabilirne assunte definizioni. Volevo citare Italo Calvino che nelle città invisibili scrive l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà se c'è ne uno. È quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti, accettare l'inferno e diventare parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso e desigio attenzione e apprendimento continui. Cercare e sapere di conoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e far roturare e dargli spazio. A Napoli questo non è cosa facile. Meta di grandi menti, da Gaete a Polidori, continua ad essere un laboratorio, un osservatorio mondiale dove ci si sofferma, si zoomando le micro realtà, osservandole come sotto un vetrino, stupendosi sempre di quello che viene fuori. Ed ecco perché John Turturro viene dagli Stati Uniti a Napoli a girare passione, trovandosi di fronte a set naturali a costo zero, attori non professionisti sempre a costo zero, trovando nelle musiche e nei canti popolari che in qualche modo gli appartengono da emigrante, espressioni ataliche però contemporanee, che caratterizzano non solo Napoli ma tutto il meridione. Napoli è una città che conosco bene, che mi appartiene e per più di dieci anni ho fatto il tratto a Versa-Napoli da pendolare nella metropolitana per arrivare all'università ed è stata una ricerca, ho effettuato una ricerca sul campo quotidiano perché la metropolitana, i veicoli, l'autobus sono veramente un scenario sempre ricco di spunti e di osservazioni. Ciro analizza una Napoli mobilissima. C'è la proposta di a N di chiudere la metropolitana, che era la metropolitana che io prendevo e prendo generalmente, a causa della diffusa criminalità proveniente da Scampia, come servomero potesse poi realmente rappresentare un luogo autonomo al di sopra degli umili e dei proletari del resto della città e dei quartieri della periferia. Robert Castello afferma che questa è la società più sicura mai esistita eppure allo stesso tempo rappresenta una società di insicurezza totale. Questo perché afferma che gli individui che la compongono si trasformano da produttori a consumatori e Bauman la conferma parlando di industria della paura, dove la vita liquida rende tutto più frenetico e dove però la guerra alle paure umane sembra avere come esito la distribuzione sociale delle paure anziché la riduzione quantitativa. E questo viene spiegato anche attraverso l'Augè in Chi fine ha fatto il futuro parla di un'armatura teorica rappresentata proprio dalla religione esasperata. Ne abbiamo un esempio perché a Napoli ancora oggi si chiedono miracoli e anche a Versa è ricca di madonnari devoti ognuno ad una donna diversa che cercano di aggrapparsi a una spiegazione religiosa. E Goethe disse trova nel popolo napoletano la più vivace e geniale industria non per diventare ricchi ma per vivere senza preoccupazioni e a Napoli come tutto il meridione ne abbiamo dimostrazione quotidiana sotto ogni aspetto a partire da una signora anziana di Spacca Napoli che in questi tempi difficili di sopravvivenza non potendo coltivare un piccolo orto perché vive in un palazzo alleva una galline strada che le offre uova fresche da mangiare e da vendere. Nell'arte dell'arrangio si sa che a Napoli è cosa risaputa insomma. L'arte dell'arrangio fa parte del popolo napoletano infatti spuntano in una giornata di sole se viene a piovere improvvisamente e spuntano dal nulla bancarelle pieni di ombrelli o fischietti in caso di sciopere manifestazioni e probabilmente anche in caso di attacco alieno si troverebbe sicuramente qualche soluzione. Però il fil rouge del libro non è solo Napoli, uno scelario in mutamento come quello dei teatri ma è anche la parola, il significante e il significato, quello esplicito e recondito. Quando l'oggetto diventa qualcosa che fuoriesce, diventa altro. Come dice Anni Moretti le parole sono importanti, andrebbero usate in modo esatto soprattutto in politica. E dato che l'ho citato l'altra volta con Teti citerei nuovamente però un'altra citazione di Tolstoi perché è sempre attuale. Quando scrive perché non vi siano né l'oppressione del popolo né le inutili guerre e perché nessuno si indegni più contro coloro che sembrano esseri colpevoli di tutto ciò occorrerebbe realtà ben poco e precisamente unicamente che gli uomini capiscano come stanno veramente le cose e le chiamino con il loro nome e sappiano che un esercito è uno strumento d'omicidio e che il costruire e comandare un esercito, ovvero sia ciò di cui si occupano con tanta disinvoltura i re, gli imperatori, i presidenti, è soltanto una preparazione all'omicidio. Basterebbe che ogni re, imperatore o presidente comprendesse che i suoi doveri di comandante in capo delle forze armate non sono affatto un incarico onorevole e importante come gli fan credere i suoi adulatori, bensì un malvagio e vergognoso prepararsi all'omicidio e che ogni privato cittadino comprendesse che il pagamento delle tasse con le quali si arruorano e si armano i soldati e a maggior ragione il prestare servizio militare non sono affatto azioni senza importanza, bensì azioni malvagie e vergognose e costituiscono non soltanto una connivenza ma una vera e propria complicità a un omicidio e subito si magnificerebbe da se tutto quel potere degli imperatori, dei presidenti e dei re che tanto ci indigna e per il quale adesso si continua ad assassinarli. Ed è proprio quello che Ciro fa nel libro, chiamare le cose con il proprio nome, analizzarle nella sua totalità senza chiudere la questione con conclusioni banali e stucchevoli ma aprendono i requisiti e se oggi invece questa sacca storica fosse il laboratorio del governo neocapitalistico e televisivo, se l'emergenza del ricliuto fosse la prima esposizione universale della prossima modernità e con la stessa concisione con cui Brecht quando si chiede che cosa sia l'effrazione di una banca di fronte alla fondazione di una banca pone un'enorme questione con una semplice frase anche ironica se vuoi e spesso ripercorre, sottolinea il concetto espresso da lei, le parole non sono innocenti e quando si scopre e si conosce una parola in quel momento diventa necessaria. E' interessante molto il capitolo in cui si parla delle morti dovute al senso e all'assenza dello stato seguite da manifestazioni pubbliche e come fa Ciro mi piace citare sempre anche in caparezza perché mi ha ricordato un brano di una canzone che potrebbe essere utilizzata e studiata oggi nel liceo come una poesia sociale dove dà alle cose il loro nome quando dice non siete stato voi che rimboccate le bandiere sulle bare per addormentare ogni senso di colpa, non siete stato voi che brucereste come strega gli immigrati salvo venerare quello nella grotta, non siete stato voi col busto del duce sugli scrittori e la costituzione sotto i piedi. E Ciro riesce con una semplicità da sociologo forse, sociologo preparato a passare dalla questione degli immigrati dei campi rom, dalla criminalità organizzata a quella dei rifiuti. Ed è interessante l'analisi della campagna riguardo la raccolta differenziata di Napoli ad Aversa e si può dire che già 28 anni fa c'era la vecchiarella di Così parlo a Bella Vista che dava istruzioni al netturbino di come raccogliere le carte per strada dei panzarotti e delle zeppole lanciate dalla contesta che fa la contesta in casa ma non lo fa per strada. Quindi appunto basterebbe spostare il punto d'osservazione dal, come dice Ciro, non nell'istruire il popolo ma nel notare come invece mancano i servizi a monte. E a questo proposito chiuderei leggendo un brevissimo estratto. A chi chiedeva perché si dovessero differenziare i rifiuti che poi dovevano essere compostamente ricompattati a formare razionali geometrie a volte in plastica e con varie nuance di bluet, il tal quale nella raffinata poetica dei commissari alla decenza che è anche questione di lingua. Si rispondeva con sprezzo che differenziare i rifiuti è prima di tutto una buona abitudine personale, nonché una sana misura igienica, una forma di rispetto per sé e per gli altri, una sorta di fitness civico che non può venir meno per la mancanza del servizio. Che il servizio non fosse mai neanche stato seriamente ipotizzato in quanto affidato alla stessa impresa che guadagnava peso sui rifiuti da incenerire e che proprio per questo si era garantita un minimo di conferimento da parte dei comuni al di sotto del quale sarebbe stata applicata una penale interessava chiaramente meno degli esotici costumi del meridionale su cui alcuni resoconti di viaggio avevano recentemente richiamato l'attenzione, riportando di nuovi avvistamenti da alcune vecchie figure mitologiche, quale il motorino a tre teste, il borseggiatore a sei mani, il daltonico passatore di semafori. In quanto vizio generale di sistema e non frutto di antropologia deviata, attestavano i virtuosi della notizia, la mancanza del servizio in cui si va meno di vizi antichi, spesso pittoreschi e tollerabili, che accumulandosi sono diventati intollerabili, a sovvertire malignamente le etofine della favola delle api. Sul piano dei contenuti la campagna televisiva nazionale io differenzio ha intenti ben definiti, richiamati in apertura dal coupon di presentazione alla stampa, e voluta fortemente dal governo per educare i cittadini alla raccolta differenziata. La voce fuoricampo nello spot recita che rispetto dell'ambiente e pulizia sono attenzioni di cui ogni luogo ha bisogno. Figuriamoci allora questo in cui l'igiene nei secoli era sconosciuta, si cuocevano i maccheroni per strada, la pizza nei sottoscala, e le parole di Giorgio Bocca. Sono la voce fuoricampo di due testimonial dell'eccezione, che chiariscono che loro differenziano, loro fanno la differenza, scorrono le immagini di un popolo bambino, seduto in un prato, intendo a mettere dei giocattoli di plastica in un secchiello, difficile ma non impossibile. Spero utili, ma soprattutto cercando di far dire qualcosa a Ciro, che insomma ritiene di essersi espresso a sufficienza nel libro, però un libro che ancora non è stato letto da gran parte degli astanti e quindi ci tocca parlarne anche un po' insieme. Annalisa ha introdotto il libro molto bene, soprattutto chiamando in causa una veramente una folla di personaggi, di riferimenti culturali che sono, nonostante tutto, una parte diciamo ancora trascurabile dei riferimenti culturali che ha questo libro e che normalmente alla ricerca di Ciro. Allora, io sul libro vorrei cercare, come dire, innanzitutto di porre qualche domanda a Ciro e in partenza di dire un po' quella che mi sembra la tesi di fondo e la linea di ricerca aperta, senza trascurare il modo in cui Ciro affronta le problematiche che sono oggetto di queste, lui le chiamano un po' scritture d'occasione, ma direi che qua il termine, anche in questo caso il termine è forse insufficiente. Prima Ernesto parlava della, come dire, dell'argomentazione che Ciro esibisce fin dalla presentazione di questi scritti, che è a diretto confronto con una idea pasoliniana della città. In alcuni casi, noi sappiamo, tutti ne abbiamo diciamo contezza e sensazione, Pasolini è stato un grande cannocchiale puntato sul futuro e in alcuni casi è stato però, diciamo, anche la fonte, l'origine di grandi travisamenti. Qui secondo me Ciro coglie uno dei travisamenti pasoliniani. Pasolini parlava di Napoli come di un luogo, forse l'ultima, tra virgolette uso un termine altrui, l'ultima speranza dell'umanità, l'ultima speranza di resistenza alla modernità, di resistenza alle logiche del capitalismo postindustriale, alle logiche della società postmoderna. L'idea di Pasolini, della società napoletana, di ciò che Napoli rappresenta a livello simbolico, ma anche a livello storico, era quasi quella di una società virtuosamente anarchica, irriducibile alle logiche dell'organizzazione. E forse questa grande illusione, questa grande, come dire, è felice metafora di una condizione resistenziale, di una possibilità di resistenza alla modernità, oggi dispiega un pochino tutto il suo fallimento, tutta la sua inconsistenza. L'ipotesi di fondo del libro, che mi sembra, diciamo, ben sostenuta veramente, pur senza, diciamo, trarne delle conclusioni, come sottolineavi tu Ernesto, è che noi viviamo, siamo immersi in un contesto, in un luogo che probabilmente è diventato, per una serie di condizioni, di ragioni, che abbiamo analizzato tante volte anche in situazioni e per condizioni diverse, uno dei grandi laboratori, dei laboratori preferiti della condizione del postmoderno, del capitalismo cannibalista, della, come dire, della consunzione di un patto sociale, di un'organizzazione sociale, che bene o male ha costituito il paradigma dell'Occidente, che ha retto, non dico per secoli, ma per decenni, che ha, come dire, determinato una linea di sviluppo che probabilmente oggi è giunta ad esaurimento. E probabilmente qui le cose avvengono in alcuni casi prima che altrove, in alcuni casi avvengono in maniera diversa rispetto ad altri luoghi e quindi sembra di trovarci di fronte a delle singolarità assolute. e queste singolarità che sono, come dire, l'oggetto di una ricerca squisitamente qualitativa e rivendicata come tale, perché c'è una parte, c'è uno dei capitoli del libro, uno dei saggi del libro in cui Ciro, diciamo, esordisce proprio con la critica, lo smontaggio del mito della quantità, del mito degli occhiali, diciamo, con i quali guardiamo ai fenomeni, alle cose, considerandoli solamente sotto l'aspetto quantitativo. Certe volte, invece, mettere a fuoco l'eccezione, mettere a fuoco l'anacronismo, mettere a fuoco il caso atipico, mettere a fuoco anche il caso unico, residuale, marginale, diventa un grimaldello eccezionale, fortissimo, potentissimo, per svelare certe tendenze della contemporaneità, della modernità, delle condizioni di un territorio che magari non si vedono o che non si sono ancora dispiegate o che sono, diciamo, la frontiera del futuro prossimo venturo.